Eeeh, bella città di Shizcook, io sono Luke e bentornati in questo nuovissimo video di Overwatch. In questo video ragazzi vi porterò un montage di tutte le partite di piazzamento che ho fatto a Overwatch. Se vi piace il gioco e lo conoscete fatemi sapere cosa ne pensate dal video, se invece non conoscete ancora questo gioco è il momento buono per iniziare, insieme a noi, dai, insieme ai Shikokujinici. Diciamo che ho messo insieme i momenti migliori, le azioni importanti, insomma tutte le cose un po' più divertenti o belle di tutte le partite che ho fatto di piazzamento. Vediamo insieme a che rank sono arrivato. Ci vediamo nel video. A tra poco. Che figlio della merda. Microcazzi attivati. Laone. Laone. E' la... guardate qua non ho fatto niente, guardate come muoiono ho solo Giancratto, ho ucciso un poco bella si se la prossima la vinciamo abbiamo vinto se la prossima la perdiamo abbiamo perso intia l'odio Jankrat perchè due mine adesso perchè va vaffanculo due Jankrat madonna l'ho uccido sto Jankrat mi buttò giù le barriere che avevo cominciato vaffanculo dici ragazzi meno male che dovranno sistemare il coso dei livelli una buttata in tua mamma non è male che sono scarsi non è male che sono scarsi non è male che non sono scarsi è vero non è male che sono scarsi la morte dovrò fermare hanno messo il power a merce si sta facendo i giretti quello sta guardando il panorama ragazzi lo sappiamo che è un troll l'ho buttato giù fregatene per fortuna sono scarsi questi qua e niente bella sopra sopra l'arrivano del cielo sì, mi resti o al martello buona ragazzi e va a fangulo eeeh no siamo persone semplici io c'è Argio voi venite dietro vai 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 c'ho Rodo che è sul culo aiuto cazze hanno il teleporco eh ragazzi cazzo voi resistete se resistete io lo trovo io la coppia che scoppia in realtà lo usate perchè sennò la sarei morte però questo mio dio e vai a fare un culo culo bravi cazzo cazzo portanaglio e charge dentro con la bolla cazzo 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 No, riperdietro, riperdietro Grazie Ah, sì Prego, prego, prego No, ma non era scontato che facessero la ultima, o no? Aiuto, aiuto, aiuto Vai, ci sono, ci sono, sono in dietro Vai, 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 su Ranias È uscito È morto Gravissimi Un che sguardo sexy, però Ah, ecco il bassino Ah, ecco il bassino Ah, ecco il bassino